La condotta sottomarina di Siculiana è rotta a pochi metri dalla riva e le fogne si diffondono in mare. Con queste parole, l'associazione ambientalista Mariamico Agrigento segnala un presunto caso di inquinamento ambientale ai danni delle bellissime acque di cui il territorio agrigentino si può vantare. A est della rottura della fogna, denunciata dall'associazione, c'è la spiaggia di Gialonardo, mentre a ovest si trovano i lidi di Siculiana Marina e le spiagge della riserva di Torresalsa. Dalle riprese effettuate tramite drone fornite da Mariamico, si può vedere come in un determinato punto della zona dove è stata segnalata la rottura, ci siano tanti pesci che vi girano intorno. Fenomeno che, a detta del responsabile dell'associazione, Claudio Lombardo, indica appunto la presenza della rottura della condotta sottomarina e della fuoriuscita delle fogne, in quanto gli animali marini sarebbero attirati dal valore nutritizio di queste acque. La proposta di Mariamico, chiesta direttamente senza mezzi termini, è che le condotte sottomarine vengano messe al bando. Non si deve più consentire lo scarico diretto in mare di acque inquinate, a nessuna distanza dalle coste, scrivono dall'associazione. Tutte le fogne devono avere come recettore finale i depuratori e non il mare. Grazie. Grazie.